Ciao a tutti e bentornati ai 101 secondi Viola di oggi. La Ferentina comincia l'avventura in Europa League, la comincia con poco turnover, queste le parole di Paolo Sosa che possono anche in parte sorprendere, ma la sensazione è che Paolo Sosa quest'anno non voglia sbagliare nulla, o meglio, non voglia sentirsi dire o sentirsi accusare di alcune scelte, di far giocare le seconde linee, di dare poco spazio ai titolari nelle partite che comunque rimangono importanti, come quella di Salonico. Però davanti sicuramente qualche cambiamento ci sarà, potrebbe essere la serata, dovrà essere la serata di Bernardeschi e Babacar, della BB Viola, ed è importante questa partita perché sono due giocatori che per motivi diversi hanno bisogno di spazio, hanno bisogno di tempo, hanno bisogno di giocare, hanno bisogno di sentirsi forti e importanti in questo progetto a Ferentina. Ne gioverebbe la squadra, ne gioverebbe davvero quest'annata che su questi due giovani fa molto affidamento, soprattutto per Babacar in questo momento, tenuto ormai fuori da molto tempo dopo l'infortunio con tanti problemi. Può essere la serata giusta, deve essere la serata giusta per mettere un sigillo, per far vedere che Babacar, come ha detto Paolo Sosa negli ultimi giorni e nelle ultime settimane, si sta allenando bene come non mai, ha come non mai voglia di tornare ad essere decisivo e importante perché in fondo da quando ha rinnovato il contratto, da quando ha avuto molti soldi, è un po' scomparso dal punto di vista tecnico nel progetto Viola. Un paradosso, ma nel calcio alle volte accade anche questo. A domani con i 101 secondi Viola. Un saluto da Marco Dell'Olio.